La nazionale italiana di calcio parte per il Giappone. All'immediata vigilia dei mondiali una grande prima serata speciale di porta a porta tra Roma, Coverciano e Maranello fa incontrare gli azzurri di trapattoni con Michael Schumacher e il team mondiale della Ferrari. A fare il tifo Timona Ventura, Valeria Marini, Alba Parietti, Luisa Corna e i campioni che vinsero in Spagna i mondiali dell'82. Porta a porta, domenica 19 ore 20 e 45, Rai 1.